Coltivare cannabis seguendo il ciclo lunare, un grande aiuto per le nostre piantine. Adattare la coltivazione della cannabis alle fasi del calendario lunare può dare risultati davvero eccezionali, perché si individuano i periodi migliori per la semina, il travaso e il raccolto. Anzitutto però bisogna conoscere le quattro fasi lunari, crescente, calante, luna piena e luna nuova. Queste indicano il diverso aspetto che la luna mostra nei confronti della Terra durante il suo movimento. Quando la luna si trova tra Terra e Sole è luna nuova. Poi man mano che la parte luminosa compare e aumenta, siamo in luna crescente, fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce, quindi luna calante, fino a tornare alla fase di luna nuova. Nel nostro emisfero la luna calante si individua facilmente perché ha la forma di una C e quella crescente di una D. Nell'emisfero meridionale invece è esattamente l'opposto. La luna crescente somiglia più a una C e quella calante ad una D. Successivamente vanno osservati gli archi che la luna traccia con il suo movimento. Ascendente quando è più alto e grande e discendente quando è più basso e ridotto. La fase di luna ascendente è il momento perfetto per tagliare le talee e prepararle, evitando invece di raccogliere le nostre inferescenze. Al contrario, durante la luna discendente si preferiscono i lavori che riguardano le radici, la germinazione dei semi, la messa in terra e tutti quei lavori di arricchimento del suolo. Affermiamo quindi che la luna crescente e ascendente stimoli la parte aerea della pianta e favorisca la vegetazione fogliare. Al contrario, la luna calante e discendente sposti le risorse della pianta nell'apparato radicale. Facciamo un veloce resoconto. Substrato Soprattutto per le coltivazioni outdoor, quando si pianta in terra matre, cerchiamo di far coincidere la preparazione della miscela con la luna discendente, nella fase tra l'ultimo quarto e la luna nuova. Germinazione La germinazione è consigliata durante la fase discendente, nei tre giorni precedenti alla luna piena. Questo favorirà la crescita di fiori più grandi e aromatici. Travaso Spostare una pianta da un terreno all'altro è forse uno dei momenti più critici di una coltivazione. Per l'evenienza è meglio godere di una luna crescente e discendente. Fertilizzazione delle foglie e delle radici Se concimiamo irrorando le foglie, è meglio farlo con una luna che sorge e che cresce. Se invece aggiungiamo fertilizzante all'irrigazione, preferiamo una luna discendente e crescente. In ogni caso, è sempre meglio concimare e fertilizzare al mattino. Le potature aeree, destinate a migliorare le prestazioni della pianta, è meglio seguirle con una luna discendente e in fase calante. Le tale vengono prelevate con luna nascente, in fase calante o crescente. Per piantarle, invece, preferiamo una luna discendente e crescente. Tecniche di coltivazione Se si vuole praticare la piegatura dei rami o la LST, bisogna stressare le piante il meno possibile. Se la modellatura viene eseguita durante la crescita, è meglio una luna crescente e ascendente. Se viene fatta durante la fioritura, è meglio una luna calante e ascendente. Prevenire insetti o malattie Per i trattamenti preventivi, vale tutta la fase ascendente, meglio se durante la crescita. E si consiglia di usare gli insetticidi al mattino e i fungicidi al pomeriggio. Infine, per la raccolta dei nostri fiori, l'ideale è una luna discendente e calante, meglio se al mattino. Per rimanere sempre aggiornati sulla cannabis e sugli stili di vita alternativi, non dimenticate di visitare il nostro sito www.dolcevitaonline.it Questa videonews è offerta dal nostro sponsor Silent Seeds, www.silenceeds.com